Si apre la trattativa fra la Banca Monte dei Paschi di Siena e Marco Morelli per la sostituzione dell'amministratore delegato Fabrizio Viola. Stamani a Siena, a quanto si apprende, sono state avviate le verifiche per la sua successione all'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, dimissionario da ieri. L'obiettivo è chiudere le trattative in tempi rapidissimi, non più tardi della prossima settimana. Il dossier è seguito in prima persona dal presidente di MPS Massimo Tononi e dal presidente del comitato nomine Alessandro Falciai. Sia il terremoto che ha portato all'uscita di Viola, sia l'indicazione di Morelli come sua successore, sono frutto di indicazioni arrivate in modo perentorio da Roma. Preoccupati i sindacati che temono per i livelli occupazionali. Banca Monte dei Paschi e soprattutto chi la rappresenta deve avere un atteggiamento responsabile anche nei rapporti con i sindacati, in assenza del quale non potrà essere escluso nessun tipo di mobilitazione a difesa dei livelli occupazionali, del salario e dei diritti contrattuali. Lo scrivono i coordinamenti delle sigle sindacali presenti in MPS che stamani hanno incontrato a Rocca Salimbeni il presidente Massimo Tononi. Quest'ultimo, secondo quanto scrivono le organizzazioni nella nota, nel considerare estremamente spiacevole quanto accaduto ieri durante la riunione del CDA, ha tuttavia espresso apprezzamento per il grande senso di responsabilità manifestato dai colleghi e dal sindacato anche all'interno di questa vicenda.